Gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale, una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Siamo ai titoli di coda. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie Fabio, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!